L'abbiamo regalata a noi quella... Ci ha messo già il rullino, mo sta a fare cosa fa Il cucchiaino, adesso se lo frega Giorgio Giorgio? Chi dice Giorgio? Io lo chiamo Giorgio Guarda qua, guarda qua avanti Ehi, guarda qua avanti Guarda qua, guarda qua Guarda qua Guarda qua Di l'ho No, vieni qua. No, vieni qua. No. No, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Grazie. Oh! 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 Grazie a tutti